ciao a tutti oggi ho deciso di girare un video per darvi delle informazioni richieste da una mia follower e che ho pensato potessero essere utili per tutti quanti quindi eccomi qua di cosa vi parlo oggi del sodio iaruronato questo è quello che vendono su aromazonna da come vedete qui voi mi direte ma sì però lì c'è scritto acido iaruronico se la mia fotocamera lo mette a fuoco sicuramente potete vederlo in realtà se andate nella composizione c'è scritto sodio iaruronato quindi c'è una certa differenza adesso vi spiego qual è prima di dirvi quella vi dico che il sodio iaruronato veniva estratto e ottenuto dalla lavorazione della cresta del gallo quindi aveva un'origine animale poi attraverso varie ricerche adesso viene ottenuto tramite la biochimica allora qual è la differenza tra acido e sodio l'acido iaruronico è quello più costoso è veramente tanto costoso e quindi anche raro trovarlo compreso nei cosmetici quello che noi troviamo di solito il sodio iaruronato anche perché l'acido iaruronico deve essere utilizzato in grandi quantità per avere effetto e se utilizzato in meno di un tot insomma non è come se servisse a nulla la capacità però che ha l'acido iaruronico è quello di penetrare la perle e ridare o dare quel tono che normalmente con l'avanzare dell'età si perde il sodio invece è il suo sale e costa molto meno è molto più facile quindi da reperire e a differenza però dell'acido ha la particolarità di trattenere l'acqua superficialmente quindi agisce più che altro a livello del derma ha una capacità di levicare e idratare la pelle però lo fa temporaneamente nel senso che fino a che si usa il prodotto questo gli effetti sono efficaci si vedono nel momento in cui non si utilizza più già tutti questi effetti si perdono quindi come io ho letto sul calderone alchemico vi metterò il link del box informazioni perché lì che ho preso soprattutto in modo particolare ecco queste tutte queste informazioni che mi sembrano anche molto molto attendibili una valida sostituto del sodio aruronato è il gel d'aloe io vi faccio vedere questo che odi dell'equilibra perché hanno comunque proprietà molto simili io cosa faccio personalmente li uso insieme che sia che li uso così puri o nelle cremo nei miei preparati li preferisco utilizzare insieme così insomma penso di riuscire a godere di le proprietà di entrambi allora quali sono le proprietà del sodio aruronato protegge la pelle da virus e batteri aumenta la plasticità dei tessuti idrata la pelle e appunto per questo è utilizzata nelle creme anti age perché di solito è un tipo di idratazione che con l'età con l'avanzare dell'età si si perde anche proprietà antinfiammatorie e ciclatizzanti e non ha controindicazioni a parte insomma ipersensibilità soggettive e personali quindi può essere utilizzato un po da tutti un altro aspetto di cui è importante sottolineare è l'aspetto del peso molecolare ossia la grandezza delle particelle di cui è fatto questo questo prodotto il sodio di aruronato ossia se le particelle più piccole sono più penetrano nella pelle quindi più hanno un effetto di tonicità di dare proprio corposità alla pelle però più il prodotto è costoso questo qua di aromazonna come si può leggere nella scheda che si trova sul sito online dove l'ho acquistato è a medio peso molecolare cioè come c'è scritto lì a molecole diciamo di varie dimensioni sia quelle piccole che idratano cioè sia quelle un po' più grandi e medie che idratano superficialmente la pelle sia quelle più piccole che quindi penetrano e hanno questo effetto più ripolpante quindi può dare un effetto che anche dura più a lungo bene penso di aver dato tutti i chiarimenti allora come lo realizzo io non vi posso far vedere esattamente tutti i passaggi perché quando l'ho creato naturalmente non pensavo di girare un video però se vi può essere utile tra i tanti video insomma ricette che ho letto uno attendibile che poi poi quello che ho fatto io e col di Carlita Dolce anche lì vi lascio il link nel box informazioni se vi può interessare a vederlo che cosa ho ottenuto da una polvirina qua c'era semplicemente della polvirina bianca questo è di da un grammo e l'ho pagato credo sui 4 5 euro non ricordo il prezzo scusatemi ve lo metto da qualche parte da un grammo di sodio iononato si può ottenere si possono ottenere 100 grammi di gel di sodio iononato un per cento adesso vi faccio vedere perché e come allora che cosa vi serve io ho preso un contenitore vedete poi l'ho messo qui quindi il gel una bilancina non vi preoccupate è veramente semplice quindi anche se non ve lo posso far vedere proprio in diretta come si fa e penso che capirete una bilancina io preferisco utilizzare un piacere di vetro perché mi piace vedere l'effetto che fa il gel dell'acqua io prendo questa che è quella per i ferri da stiro allora quanta acqua si versano dentro 98,40 grammi di acqua e tra il 98,40 e 99 grammi quindi insomma se vi scappa un grammo in più non vi preoccupate versate l'acqua poi prendete la polverina e ce la versate sopra a pioggia basta non dovete toccare non dovete ecco è uscito qualche granilino non dovete mescolare coprite l'acqua con la pellicola e mettete il bicchiere da parte a riparo dalla luce lo mettete in un posto al buio per 7-10 ora io l'ho preparato di notte cioè prima di andare a dormire quindi poi il giorno dopo ho ripreso il composto e saranno passate appunto sulle 10 ore poi prendete un cucchiaino iniziate lì al mescolare voi comunque il giorno dopo vedrete che tutta la polverina sopra l'acqua non ci sarà più avrete un liquido chiaro e solo che lì il gel si è già formato perché ormai tutto il la polverina avrà fatto reazione con l'acqua però se prendete un cucchiaino e mescolate mescolate potete sciogliere i glumi nel farlo vi si formeranno delle bollicine non vi preoccupate andranno via dopo aver mescolato quindi tutto aggiungete un conservante io setto ricoscart e mettete 16 18 gocce e poi lo travasate ecco io l'ho travasato quando il mio gel aveva ancora delle bollicine infatti avevo messo un post sulla mia pagina subito dopo averlo fatto lì forse un po si vedono ancora io poi l'ho chiuso l'ho messo al buio e un giorno dopo forse due non so tutte quelle bollicine non andate via e questo è il gel come vedete ha una consistenza liquida che sembra quasi acqua però ha anche un effetto gelatinoso insomma se poi lo toccate vi rendete conto che non è acqua allora io l'ho preparato così in modo semplice perché poi vado ad aggiungerlo ad altre creme preparati corpo e quindi non ho voluto aggiungere altri ingredienti se invece per esempio avete intenzione già di utilizzarlo sul viso potete invece dell'acqua sempre nelle stesse quantità di 98,40 grammi usare un infuso ad esempio di camomilla che può essere nitivo se lo volete utilizzare come contornocchi o tè verde anche se lo volete utilizzare per esempio in creme corpo quindi dipende da quello che volete fare potete utilizzarlo infuso e poi potete mescolare un po di gel semmai in parti uguali un po di gel di sodio un po di gel talue aggiungere qualche goccia di tocoferolo pochissima perché il tocoferolo non è solubile in acqua e se volete anche un po di conservante anche se sia qui cioè in entrambi i cosiddetti prodotti il conservante c'è quindi se non fate grosse quantità di questo cosmetico insomma non vi va male e potete benissimo utilizzarlo per esempio sul viso se vi piace la reazione attenzione perché il gel non so se l'avete provato sul viso ha un po l'effetto che quasi tira la pelle a me non dà fastidio infatti io quando ho finito mi sono trovata senza contorno occhi ho utilizzato direttamente questi due prodotti un po mescolati insieme e sono andata bene quindi dipende da se vi piace o no l'effetto che vi dà una cosa importante se dovete utilizzarlo per il viso dovete abbassare il ph ossia il gel di sodio eronato ha un ph 6 quindi se dovete utilizzarlo sul viso è meglio che abbassate a 5 5.5 ecco non utilizzatelo così poi ecco anche lì potete utilizzare tutti gli ingredienti che volete ovviamente sempre cercando di capire quali sono i più o meno adatti per voi si conserva a lungo dai sei mesi ho sentito dire anche di più quindi dipende anche penso dal stato di conservazione ecco io spero di aver risposto alle domande di questa ragazza se voi ne avete altre fatemene pure io ho piacere rispondervi anzi se avete delle richieste di video post particolari fatemelo perché mi fa piacere farli e quindi vi saluto ciao ciao